Questa è la tua vita, tutto ciò che possiedi è bello, realizzato perfettamente, creato splendidamente, tutto quello che hai sente, pensa e reagisce come se fosse stato fatto apposta per te, non è il momento di avere il massimo della perfezione, per l'uomo che ha tutto, la donna perfetta, comprane una, alcune parti sono da montare, ecco si!